Lavoravo in una compagnia cinese in Libia, poi con la guerra sono dovuto fuggire. Wali, 29 anni, nigeriano, alle spalle l'odissia della traversata su un barcone per Lampedusa, è uno dei 20 profughi ospiti da un mese al villaggio della misericordia di Affori, periferia nord di Milano, il centro di accoglienza religioso che insieme al dormitorio comunale di Grattosoglio si prepara in queste ore a ricevere altri 10 dei 40 rifugiati in arrivo in Lombardia. Come passi le tue giornate? Chiediamo, vado in giro, cerco lavoro, vado in stazione centrale, in realtà non faccio niente, ci spiega. Vorrei stare in Italia perché mi piace, questo paese aggiunge, ma se non c'è lavoro e una sistemazione decente, meglio per me andare in un altro paese, in Francia o in Germania. Al villaggio della misericordia oggi operatori al lavoro per preparare l'accoglienza a questi nuovi profughi. In arrivo dai responsabili però nessun commento, vogliamo evitare strumentalizzazioni, ci hanno detto. Sull'accoglienza ai profughi infuriano le polemiche, si divide la politica, con un primo scontro tra Pisapia e Formigoni. Milano deve tornare ad essere accogliente, ha dichiarato il neosindaco. La Lombardia ha già fatto la sua parte, replica il presidente della regione, ma proteste arrivano soprattutto dai comuni del sud, in testa Pieve Emanuele, amministrazione leghista, sul piede di guerra contro l'invasione a Residence Ripamonti. Qui ad Affori invece nessuno sembra essersi accorto della presenza dei profughi. Se è giusto accoglierli, la gente risponde così. No perché sono troppe. Se si può dare una mano, si dà.